La provenienza dei cori, abbiamo nove paesi, sono undici cori, alcuni paesi sono rappresentati due volte come Hong Kong e Cina che porta due formazioni, anche la Francia porta due formazioni e poi abbiamo Spagna, Indonesia, Filippine, non me li ricordo neanche tutti, Polonia, abbiamo gruppi vocali, abbiamo cori, abbiamo cori femminili, maschili, misti, quindi c'è veramente di tutto quest'anno. Un'edizione quanto mai ricca, quella numero 72 del Polifonico, in corso ad Arezzo fino al 25 di agosto. Un'edizione che sarà possibile seguire anche dai canali YouTube della Fondazione Guido d'Arezzo e tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito. Sia il concorso vero e proprio con tutte le sue sezioni, obbligatoria, musica sacra, musica profana, la rassegna di canto popolare su In Fortezza, ma anche appunto la masterclass, quindi l'aspetto didattico per gli studenti della scuola di direzione, una tavola rotonda dedicata al canto gregoriano, fiammella che io voglio tenere accesa del concorso polifonico Guido d'Arezzo perché solo lui e pochi altri mantengono in vita questa grande tradizione culturale e vocale che è tipica nostra. Tra gli eventi speciali, quello di venerdì 23 agosto alla Fortezza alle 21, nell'ambito del 39esimo Festival Internazionale di Canto Popolare, si esibirà il coro I Cardellini del Fontanino, gruppo folk attivo dal 1952, unico interprete del bei toscano in gergo detto tirulese. Ad ospitare la cerimonia di premiazione, sabato 24 agosto, sarà ancora una volta l'Auditorium Caorum Hall. Per raggiungere la struttura ci sarà anche un servizio di navetta dalla stazione di Arezzo e sempre qui si svolgerà anche il Gran Premio Città di Arezzo. È stato utilizzato per la prima volta e verrà riutilizzato il Caorum Hall, l'Auditorium, in quanto luogo diciamo più neutro dove svolgere una gara rispetto magari a una chiesa, tra l'altro rimettendo in funzione l'impianto di amplificazione. E l'utilizzo di questo spazio, che però come sapete è fuori città, ci aveva lasciato qualche critica su come si poteva raggiungere. Ci abbiamo lavorato, sembrano sciocchezze, ma questo appunto leva qualsiasi scusa per chi dice che l'Auditorium non ci si può andare perché non c'è collegamento. Quindi anzi abbiamo già ora avuto molti complimenti telefonati da giuria, da partecipanti. Quindi è una piccola grande miglioria a disposizione di un grande concorso.